Si sono ritrovati a Faenza gli stati generali della Lega Romagna che in un noto ristorante della Città della Ceramica hanno salutato l'arrivo del leader nazionale Matteo Salvini, presentatosi in compagnia dell'ex sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone dopo una sosta pomeridiana a Milano Marittima. In questi giorni abbiamo fatto Puglia, Molise, Abruzzo, Marche in lungo e largo anche stamattina e prima di arrivare a Faenza e prima di arrivare stanotte a Piacenza una pausa Milano Marittima mi sembrava assolutamente doverosa. Presenti tra gli altri anche l'onorevole Tonelli, i consiglieri regionali, i liverani e i marchetti, gli esponenti del carroccio di Imola, Faenza e Vergreto insieme a circa 300 sostenitori che hanno cenato a bordo piscina in compagnia del segretario leghista. Durante il suo breve intervento Salvini non ha lesinato critiche nei confronti della ministra Zolina e del governo giallorosso. Non può permettersi di pensare di tenere fuori dalle classi un milione di bambini a settembre perché se è così si occupa di mascherine, di plexiglass e di bimbi fuori dalle classi che si dimetta perché di danni ne ha già fatti abbastanza. Poi ha scaldato l'entusiasmo dei suoi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in programma in autunno. A Faenza infatti così come a Imola si andrà al voto a cui il partito del centrodestra sta guadrando con interesse. Nella città Manfreda in particolare il candidato verrà presentato nelle prossime ore ma lo stesso Salvini non si è voluto sbilanciare. Fortunatamente c'è problema di abbondanza, ci sono più di una disponibilità e quindi vedremo di fare la scelta migliore. Abbiamo più di un'idea su come offrire finalmente una bella opportunità di cambiamento. Sono orgoglioso della buona amministrazione di Forlì e non solo di Forlì, quindi i cittadini stanno toccando con mano il buon governo della Lega e quindi penso che sia Imola che Faenza potranno essere altre due tappe importanti.